Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! E' Sì, come ho! E' 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 oh la lontà l'appare signori mavi 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 non automatic 3.5% è ovviamente un misdirection for reasons for reasons and we're going straight into 4.0 and it's going to be a full wipe, everything everything's wiped, assets, economy everything there's no 3.5, there never was it was all guys, a ruse it was always 4.0 this here still, yep, I mean assuming no massive delays and whatnot, obviously at the end it says trailer loading, the next thing you guys are going to see is the trailer and with the trailer we'll have the date here ... 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 è vero che ci sono no ah 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 l'on lo a me per armi ti Sì Ora Dmc Bosse Ehi Oti Non ci sono due Ehi Non ci sono C'è un po' di Torento? Sì grazie a tutti Grazie mille! Grazie mille! Tu sei che stai bene? Ah, ok, ok, ok! Ok, ok! Ok! R abundanteๆ R R R cocals R R R R R S hatten Anche si ha cas calculating ok Ok Vanuitare, per riuscere Per riuscere Ok Per riuscere, per riuscere Per riuscere 1台上飛んでるっぽい 1台は潰してる 取ってます取ってます取ってます ゆっくりとりーよ アウトから飛んでる届けてくれんの? どこに? 病院 ちょっといい奴なのやめてほしいな ちょっと ちょっとね 攻めてもの でもやばいよ病院いるかもよ 大丈夫 上からちょっと痛いけど落とす ひどい ひどいよ 捕まっちゃうかもしんないでしょ だって捕まっちゃうかもしんないでしょ あんなに仲良く雑談したのに あんなに仲良く雑談したのにでも モズの方がいいって言ったでしょ この前モズの人に会ったときは アンブレラって言った DDってこと? ラダオくん 誰でもいいこと言う ああ全方言いますね ああそう 八方美人とも言う やべぇ 押収物しまい忘れたー 押収物もいただきます いいだろう今日のとこは